27 dicembre 1904 debutta al duke of york's theater di londra peter pan di james berry il personaggio ha origine nel romanzo l'uccellino bianco del 1902 ma è nella pièce teatrale che prendono forma le più famose avventure del bambino che non diventa mai grande è dotato di straordinari poteri e vive sull'isola che non c'è assieme ai bambini sperduti l'incredibile successo dell'opera teatrale e del successivo romanzo del 1911 ha prodotto sei trasposizioni cinematografiche della storia dagli anni 20 ad oggi